Buona tarda e buona vespra. Non so se sono al matematico dell'altra vegata, se mi è di tornare a presentare, però a voi il che teniamo è una pellicola al feste di Babette che ha una relazione diretta molto forte con un test di Karen Blixen. E qui io voglio cominciare con le conferenze americane che cominciano un'aneddota personale che non ti resta a vedere tutto il discorso. L'aneddota personale è una cosa che già vi ho spiegato l'altra vegata, è che io quando avevo 20 anni e vivi a Roma lavoravo al cinema, però soprattutto avevo il mio padre che era un direttore della televisione italiana e la mia madre che era un assistente al doblaggio. è a dire che a casa non es parlava di cinema e non es veia cinema e io anche lavoravo come adattatore diàlegi. E in quel periodo, nei miei 20 anni, il che mi aveva di fare era una cultura cinematografica. E allora mi passava ore e ore con i miei amici che venivano a casa mia perché naturalmente teniam le strumenti più adeguati e teniam le versioni originali avanti che passessi nelle sali. E allora mi avevano film di Tarkovsky che duravano 6 ore, e poi le ritagliavano. Ricordo il nuovo cinema paradiso di Tornatore che ha una versione di 8 ore, che la vanno vedere tutta consecutiva. era per morirsi, avevano tutte le pellicolazioni di Einstein per fare tutta la storia del cinema. E però, curiosamente, resistivano a tutto questo. Tenia un grado di resistenza fisica e psicologica molto forte. Quando andiamo a vedere il feste dei bambini, la prima impressione che andiamo tenendo era che era una pellicola mortalmente aburrida. Sì, però non è verità. Io vorrei dire perché la andiamo a trovare aburrida in quel momento e perché, in realtà, quando andiamo a vedere, andiamo a vedere una pellicola completamente differente. Ora, la prima data che abbiamo, e che naturalmente tutti conosciamo, è la data della Karen Blixen, che scrive questa narrazione. Io credo che ci sono due elementi che non sappiamo di conoscere. La prima cosa è che questa narrazione, sappiamo che Karen Blixen scrive in anglaise, e la va scrivere in anglaise, e poi si va a avere una traduzione al danese, non sappiamo se il traduttore di verità esistiva o era la Karen Blixen, un travesti che signava la traduzione mateixa. Però la tercera venzione, in danese, è già assurda direttamente al nome dell'autore, e, inoltre, c'è anche un'altra versione in anglaise, con alcune correzioni, e abbiamo quattro versioni, che è un giro di differenza, dal stesso test, che si pubblicano entro l'anno 1950 e l'anno 1950. Però la prima pregunta, e se che è una pregunta, una mica ingenua, è che è questa narrazione, che è il festito di Babette, come genere letterari. Il festito di Babette, come genere letterari, che ha servito una terminologia francesa, è esattamente una nouvelle. La nostra traduzione, la traduzione generalmente in novella abrea, però una novella non è esattamente una novella abrea. O, sì, è una novella abrea, però novella abrea vuol dire una cosa che non è semplicemente limitata all'espai. Il test sono pochi mesi di 60 pagine, se in qualsiasi edizione. Però una novella, si distingisce di una novella o di un conto, perché tutta la narrazione è subeditata all'azione di un protagonista e alla risoluzione finale. Io ho pensato alla letteratura catalana che non sono esempi di novella, e se ne hanno accudito due, d'autori che giocano un ec forza bene, che sono il Contra la nit d'Obo Xangò di Giordi Sarsanedas, che va a essere qui il presidente dell'Ateneo, e il A chi descansa nevares di Pera Caldès. Se posiamo al costato di queste due, al feste di Babette, tutti i tre hanno una caratteristica in comune e non è una casualità. Il nome del protagonista, disfrazzato o real, già sta dentro del titolo. Perché? Perché la nuvella ha danno tutta in un'unica direzione fino a fè emergì, però purtroppo è messa via, esclatà al protagonista e la storia a mon finale. Beh, questa è la definizione di nuvella, però la nostra pregunta ora è applicata messa via agli occhi e veurem. due sono le domande che io vi faccio planteggiare dopo la mia prima lettura lettura ingenua della pellicola. la prima cosa è chi è il valore, il significato, il contingut della narrazione e la seconda è la narrazione e la pellicola tenen al mateix valore e al mateix significato. La prima era la contesto intentando fare un spoiler, però cap al final quando cal resumì all'occhi a passato le germane che veurem divene a Babette Babette e tutto ciò l'ha fatto per noi e Babette contesta per voi no, l'ha fatto per me mateixa. Con questa frase, con questa risposta alcuni critiques che hanno interpretato alcuni studiosi che hanno interpretato questa narrazione hanno dato differenze letture. La prima lettura purtroppo è la più senzilla Babette è una figura cristi. La figura cristi è un elemento generalmente teatral però anche nella narrativa in cui il protagonista o in questo caso una figura cristi al femminile la protagonista riflette d'alguna maniera la vita di Gesù Cristo però sovretot rispetto al punto di vista del martiri. Babette potrebbe essere una figura cristi dell'antichristi che è la possibilità che è una divinizzata una Babette che in realtà è un angelo una Babette che in realtà è la figura di una santa eccetera. altra possibilità è la possibilità completamente opposata è di che Babette in realtà segui la figura dell'antichrist perché tutta questa insistenza nella religione perché della religione si parla e si parla anche questa pellicola perché questa suppa che organizzano è formata per una tavola ogni 12 persone chi è la Trezena la Babette o al noi per il roggio che la giuda e sappiamo che rappresenta la figura di una persona per roggio di tutta la storia dell'iconografia sempre è una figura negativa eccetera sì tutte queste possibilità sono overti e è overti una tercera possibilità la lettura in clau autobiografica dell'autora e non insisteixo perché qui se può parlar durante horas e horas rispetto a tutta la vita della baronessa Blixen con le sue ricord d'Àfrica con le sue memoria d'Àfrica con la sua vita al Kenia e la sua tornata e le sue malalti la sífilis che le agafa per causa del marito la malaria eccetera eccetera e ricordiamo che quando ella scrive questa ovra già è famosa Out of Africa è dal 37 già pubblicato un'altra libro di contas che ha ottenuto un exit straordinario in America Blixen è un'autora con ecuda e può già parlare di si in la autobiografica io credo che al nuclei al contingut di questa pellicola è un'altra io credo che al che sta di n a ma che gli a frase la protagonista babet no è fatta per me mate no è né una declarazione d'egoismo né una declarazione d'altruismo disfrazzato è in cambio la volontà della costruzione della costituzione di una nuova figura dell'artista in sentite mess uberta nel sentite mess ampli della paraula scrittura o qualsevol altra tipus d'artista dins la societat just després della segona guerra mondial aquest crec que è il sentit del llibre ora se andiamo alla pellicola trovare uns cambios che il direttore Gabriel Axel trova necessari per non fare només accotazioni al test per esempio in l'allarrazione tot il che vediamo è ubicato a Suecia il che fa in cambio il direttore lo colloca alla Dinamarca Nadal dell'autora e per noi spero formar parte d'aquesta idea genericamente flamenca che tenim della produzione artistica del nord d'Europa però aquesta sessena la sveure e la identificare senza cap difficoltà però io ora acabando ciò è di contestare només la pregunta perché a me questa pellicola mi sembra mortalmente aburrita perché questa pellicola non diu aquella frase che us hai dit che è estretta direttamente dal libro in una diverso differente diu per voi altres no non ho ho fatto tan sol per voi altres ho ho fatto per me mateix aquell tan sol che è una traduzione correttissima ovvero in castellà però la versione anglesa è identica e è identica naturalmente alla traduzione della pellicola aquell tan sol che s'affegge in questa pellicola cambia tot il sentit della rappresentazione dell'artista s'arriva realmente in cambio alla costituzione della protagonista in una figura totalmente murale al che Joe non accettava come interpretazione del libro perché sembrava massa senzilla in visione religiosa in cambio è da settare dentro la pellicola però è di essere capace di reinterpretare tot al conta tal come la via gli egitt perché in questa pellicola a sciò a che petit cambi e in questa frase al final cambia tutta la perspettiva il resto spero che gaudiu questa pellicola